Il fanalino di coda del girone H, la puteolana, si illumina d'immenso e sbanca con merito il città degli ulivi, mettendo sotto scacco il bitonto, che così non riesce ad inanellare la terza vittoria consecutiva. In infermeria stavolta ci finiscono Triarico infortunato e Nanno la febbricitante. Il mister Nicolà Ragno disegna la sua squadra facendo di necessità virtù. Dietro la consueta Maginò, Pettacolella, si rivede in cabina di regia, Capece, con Biason mezzala, Taurino sulla trequarte ad inventare per Palazzo e Lattanzio. Ceramella si affida alla saggezza di Catinale e Fibiano nel mezzo, con Ruggero a suggerire per Celiento e Scalzone. E subito il numero 11 Campano a seminare il panico in area neroverde, la sfera esce dopo un caotico flipper. Minuto 9, ghiotta occasione per il bitonto su azione da corner, Colella spizza, Petta impatta, fuori ad un respiro dalla riga bianca. Al ventesimo destro di Fibiano, abbranca il cuoio Figliola, passano tre primi e sinistro di Scalzone, blocca ancora il portierino Bitontino. Sessanta secondi e volé fulminia di festa, miracolo di Figliola che, parando tutto, ribattuta inclusa, bissa sul tiro dal dischetto della punta campana. Penalti fischiato per un fallo ingenuo di Passaro. Al ventisettesimo scuote solo la polvere dei guanti, una incornata facile di Nicolopulos. Ancora una gentile mail di Celiento su punizione per il nostro difensore estremo. Al minuto 34, Celere dai e vai di Caruso con Taurino, esterno largo sul fondo. A dieci dall'intervallo, Palazzo lavora una palla pregevole per Taurino. Il lift non è vincente. Dopo il break, i Leoncelli mostrano un piglio più vigoroso, ma sarà un'illusione. Minuto 2, Loris Perturu, botta al volo e stinco di santo, nel vero senso del termine, di Romano. Cinque minuti e ci prova Lauria dal limite, si genuflette e blocca il guardia pali palesino. Slalom gigante e inebriante di Taurino al dodicesimo e l'attanzio a forare in embi. Passa un minuto e l'altro giovanissimo golkeeper si supera sull'inzoccata ravvicinata del puntero andriese. Al diciottesimo meravigliosa rovesciata di Palazzo e prodigio in controtempo di Romano. Al ventunesimo si decide il match. Sardo scodella da destra per Romeo che da distanza ravvicinata in sacca. 0-1. Guidati da un biason rubesto ed euclideo, i Leoni si riversano in attacco per arpionare il pari. Seguiranno, però, solo calci dalla bandierina e mischie furibonde senza costrutto. In pieno recupero, lob delizioso di Lattanzio, guantoni soliti di Romano, ginocchio fallace di Colella e pallone che si adagia Beffardo sul fondo.